Il primo pezzo è andato, il primo pezzo è un simbolo importante, un mondo che sta cambiando e che dobbiamo contribuire a migliorare. Che effetto fa a comandare un mostro del genere? Impressionante perché si sente nelle mani una potenza impressionante, sembra una cosa incredibile da vedere ma ha una potenza veramente fantastica. Ci abbiamo lavorato, sono tre anni, dopo aver postato i soldi, 2 milioni e mezzo di euro nel 2017, l'avvio delle procedure amministrative e adesso finalmente inizia a cadere il primo pezzo e in nove mesi avremo una nuova palazzina con tutte le tematiche ecosostenibili in cui si concentrano gli uffici amministrativi liberando spazi per gli ambulatori, per i cittadini.